Qui si sorride, ma soprattutto si condividono pezzi di vita difficile. In queste stanze vivono pazienti provenienti da ogni parte d'Italia o del mondo, costretti a lasciare la propria città per sottoporsi a cure che altrimenti non riceverebbero. Ci sono malati oncologici di ogni età o bambini che hanno bisogno di un trapianto. Impossibile soggiornare in albergo perché i tempi delle terapie possono essere lunghissimi. Casamica li accoglie con un contributo di 16 euro al giorno. Sono persone che hanno un parente o loro stesse delle patologie a balanza serie devo dire che ho quasi sempre incontrato persone che le vivono con molto coraggio e molta determinazione. Si è ritrovato anche davanti a epiloghi drammatici. Io mi ricordo questo bambino, lui se doveva farsi una flebo non aveva problemi, ma aveva paura di buttarsi dallo scivolo del parco giochi perché era abituato da piccolo, sempre vissuto in ospedale e purtroppo un giorno è arrivata una telefonata dicendo che non ce l'aveva fatta. È stato molto triste per tutti. Sulle migrazioni sanitarie però il Covid ha inciso fortemente per paura di spostarsi o di andare in ospedale ed essere contagiati. In molti hanno preferito rimandare le cure. Tra tutte le case che abbiamo, sei case, quattro a Milano, una a Lecco e una a Roma abbiamo circa 200 posti letto. Dal 2019 al 2020 abbiamo avuto meno 50% di ospitalità. Rimandare un controllo è ovviamente un rischio di cui forse il prossimo anno capiremo l'entità. Nonostante il calo degli ultimi 12 mesi, Casa Amica ha deciso di allargarsi e far nascere la settima struttura. La casa dovrà nascere a Milano fino al 31 marzo attraverso l'SMS al 45594. Sarà possibile aiutare Casa Amica alla costruzione di questa settima casa. Con l'emergenza sanitaria una parte della casa di Lecco è stata utilizzata per ospitare pazienti Covid in via di recupero ma ancora positivi. Mentre qui a Roma, a due passi dalla struttura principale, ce n'è una più piccola dove eventuali pazienti positivi potranno fare l'isolamento.